buongiorno buongiorno a tutti ragazzotti come state qui a Caer Mineral e come al solito ormai già lo sapete non facciamo altro che parlare di minerali esatto di minerali qua parliamo solitamente di minerali di cosa andiamo a parlare oggi oggi andiamo come al solito con la pulizia di alcuni minerali in questo caso parliamo di questi sassi giganteschi sempre che ho trovato all'isola delba di quarza metista di rio marina che è un minerale estremamente raro tra l'altro ho visto su alcuni campioni che ci sono degli scettri per chi non sapesse che cosa sono gli scettri gli scetti sono quelle formazioni strane non allungate dritte ma allungate in una maniera un pochettino strana come se fosse tipo un mezzo scettolo e oggi andiamo a pulire questa scatola di sassi sì perché fondamentalmente sono dei sassi ma la cosa interessante è che sono dei sassi pieni zeppi di calcite come si può vedere da questo da questo campione dove all'interno si trovano questi quarzi scettri un esempio eccolo qua eccolo qua un campione che vi posso far vedere tra l'altro qui c'è anche della pirite è questo cristallino un po' rotto però qui si può vedere la colorazione del quarzo metista e questa cassetta qui potrebbe contenere veramente tantissime cose molto interessanti vi faccio vedere giusto qualche esempio dei quarzi che ho trovato gli anni precedenti sempre in questa località uno dei campioni più interessanti che ho trovato in questa località e qui si vede bene il colore della metista è proprio questo qui è uno strato sottilissimo dove all'interno in mezzo della calcite possiamo trovare questi quarzetti qua che sono veramente stupendi ma come facciamo a tirarli fuori da questa matrice qua beh è molto semplice basta utilizzare l'acido muriatico in questo caso andiamo ad utilizzare proprio degli acidi per togliere i minerali che non ci interessano per far risaltare molto di più quelle che ci interessano ok e come facciamo adesso a pulire questi campioncini qua come si vede da alcuni campioni questo minerale qua che si vede biancastro è tutta calcite quindi noi se mai zoom per due oppure ti metti in piedi e proviamo fuori si va bene ho fatto un casino aiuto anna ti sei tornati ecco ecco ci sono ci sei hai fatto per due anna stai registrando si si brava stai registrando lo blocco lo blocco come facciamo a togliere la calcite per far esaltare il quarzo beh semplicemente come potete vedere da questo esempio che qui si vede benissimo la matrice da un lato la matrice dall'altro e la pena di calcite con il quarzo ametista semplicemente noi con l'acido muriatico visto che è un acido che dissolve la calcite andiamo a rimuovere tutta la calcite facendo risaltare il quarzo che sarebbe proprio quello che ci interessa e quello che ha più valore e direi che possiamo tra virgolette iniziare subito senza perdere troppo tempo a vedere se riusciamo a togliere qualche qualche campione quindi questo video mi raccomando non lo fate a casa se non ne avete la minima idea perché rischiate veramente di rimanere senza un dito quindi state tutti in occhio e io non mi prendo nessuna responsabilità su tutto quello che può cadere fuori da questo video ed eccoci qua con il più o meno risultato perché alcuni sono rimasti lì e adesso cosa andremo a fare dal di qui prendiamo una bella bacinella la riempiamo d'acqua e adesso è quasi meglio spostarsi fuori perché è meglio spostarsi fuori perché giustamente l'acido muriatico io in casa non lo uso perché è molto pericoloso anche i suoi gas sono molto pericolosi quindi per quelle persone che usano l'acido muriatico in casa oppure sul balcone evitate perché vi fa male e dopo si vedono anche i risultati capito si vedono bene adesso andiamo a prendere il nostro bellissimo acido muriatico ma prima muniamoci di guanti ed ecco che mi sono messo in un angolino della casa bello aereggiato questo è l'acido muriatico che andremo un pochettino ad allungare con la nostra acqua all'interno dell'acido come potete vedere inizieranno a friggere l'acido muriatico va a sciogliere tutta la calcina che c'è all'interno ed ecco qui il risultato per ora ho messo questi minerali qui e niente aspettiamo il giorno dopo per vedere il risultato eccoci qui ragazzoli finalmente alla conclusione della prima parte allora ho dato una bella sedata questi a quelli quindi mi sono portato un pochettino avanti e gli ho appena dato una bella sciacquata quindi adesso non ci sono assolutamente problemi nel toccarle e come previsto la calcita viene via ed ecco qua i nostri amici quarsetti che sbucano fuori altri campioncini carini io ne ho visti un paio molto belli uno è anche questo qui si vede bene il colore dell'ametista per esempio la faccia vedere al sole così spero si veda bene il colore violaceo è proprio dell'ametista quindi direi che il risultato è più che ottimo intanto che ci sono diamo un'occhiata anche ad altri campioncini qui c'è rimasta la calcite che ha fatto anche un bell'effetto qui ci abbiamo un'altra con i quarti ametista e ancora c'è della calcite dopo su alcuni giustamente gli devo dare una piccola valuta nel senso devo continuare ad acidarle oppure va bene così questa qui invece è tutto un blocco di calcite gigantesca invece questo procedimento di pulizia lo faccio per un semplice motivo perché l'acido muriatico soprattutto con questi minerali qua lascia rilascia tantissimi scori tantissima roba rossa che come si vede benissimo in alcuni campioni prendiamo sempre per esempio questo lascia tutta quella roba rossa che è orribile e la cosa bruttissima è che va anche attaccare il quarzo formando una piccola crosta di questi ossidi di ferro oppure che diavolo ne so io che cosa sia però dopo fanno schifo quindi per evitare di lasciarli in acqua così che l'ossidazione continua e si insalda per bene una cosa che adesso faremo prima di vedere quali acidare ancora oppure no è quella di dargli una breve piccola lavata con acqua e sapone così da rimuovere quegli ossidi di acidi eccetera eccetera così facendo possiamo dare un'occhiata per bene al cristallo come viene fuori quindi amici come al solito prendiamo la nostra bellissima ciotola con acqua sapone per i piatti è un po di quasar misceliamo tutto e iniziamo a pulire qualche campione con acqua sapone per i piatti è un po di circa prima cassetta pulita ed ecco qua i nostri bellissimi campioni che dovranno asciugarsi molto lentamente con i suoi tempi però già possiamo vedere alcuni risultati che sono veramente molto 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 più alti della mia aspettativa anche questo qui per esempio è un bellissimo campione anche perché si vede poco dalla telecamera ma comunque se si vede qualche cosa ha dei colori che sono pazzeschi e tra l'altro come si vede che qui la calcita è stata mangiata dalla dall'acido muriatico come si vede di calcite ce n'è ancora tanto quindi forse questo campione qui potrebbe riservare veramente tantissime sorprese per ora mi accontento di questo gruppo di cristalli di quarta nettista che fa veramente paura adesso ci manca l'ultima scatola perché si ne abbiamo ancora un'altra da pulire morca miseria sono tantissimi e poi dopo la cassetta non è finita perché ci sono altri campioni che dovrei accidare in teoria quindi le cose si fanno più lunghe del previsto adesso continuerò a lavare questi campioni per vedere che cosa si riesce fuori ed eccoci qui finalmente dopo che si sono asciugati i campioni come possiamo vedere già alcuni sono molto molto carini infatti qui già si vede un piccolo quarzettino ametista leggermente ve ne faccio vedere un altro che mi piace veramente tanto ed è questo qua questo qui veramente è stupendo non è ametista però è bellissimo il fatto che ci sia il cristallo grande e quello lì centrale che è cresciuto in questo caso in verticale e dopo ne è cresciuto un altro in orizzontale questo è veramente molto bello adesso visto che alcuni campioni sono accettabili mentre altri invece bisogna che gli dia un'altra acidata farò una piccola divisione dividerò i campioni che mi voglio tenere così come sono e i campioni invece che gli dovrò dare un'altra acidata sempre con l'acido muriatico perché in alcuni campioni per esempio come questo qui come potete vedere l'avena di calcite c'è tutta quindi non so ancora cosa ci sia sotto ridargli un'acidata a vedere cosa c'è sotto quindi farò una piccola selezione e poi le daremo un'altra acidata quindi come abbiamo fatto prima un bel po' di acido pulizia del quarsametista di rio marino per ora questo qui dovrebbe essere in teoria alla fine adesso si vede proprio un pochino strano i colori non sono molto accesi ma volete fidarvi che questa qualità di ametista dell'elba non si trovava da un bel po' guardate questa piastrina in una zeppa di quarsametista o se no non ne posso più di acidare sti campioni facendo una piccola selezione questi qui sono i campioni più interessanti che io ho trovato come potete vedere si vedono alcuni cristalli veramente molto belli di un bel colore ametista anche se continua a capire il perché non si vede così tanto il colore però come potete vedere già in questi cristalli qui si possono vedere gli ametisti invece in questo qui un pochettino più piccolino si vede iridescenza colore arcobaleno che è veramente fantastica oppure come in questa qui che devo fare un zoom allucinante come potete vedere ci sono tutti i quarzettini verdi e i cristalli di ametista questi sono veramente molto 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 interessanti ma oltre questa abbiamo poi anche quelli sulla matrice con un bel cristallino brado integro qui che sono veramente spettacolari e c'è anche questo molto carino ma oltre a questi qua naturalmente due o tre me li devo tenere in collezione e ho deciso di prendermi questi campioni qua questi quattro campioni saranno quelli che sicuramente mi terrò in collezione perché? perché come potete vedere questo è un cristallo veramente molto molto bello però l'importanza di quello era molto minore anche se comunque sia bellissimo e ha rovinato tutto ma oltre a questo qui abbiamo questo cristallo veramente molto grande sempre ametista e anche una piccolissima pirite che si è ossidata giustamente poi oltre a questo rip cristallo scrivete tutti nei commenti rip cristallo abbiamo questo qui che io veramente adoro anche se potrebbe essere uno dei più brutti però comunque sia è veramente molto affascinante anche perché il colore si vede un sacco e i cristalli ci sono cioè tutti questi qua sono cristalli di un bel colore ametista e fa un bel contrasto oltre a questo abbiamo questo qui che secondo me è fantastico perché io penso di non aver mai visto un quarto che finisce di crescere poi dopo ne cresce un altro laterale perfetto e oltre che a questo è anche scettro quindi questo è stupendo poi infine abbiamo un altro veramente molto interessante e molto fragile che è questo qui ecco qui si vede un pochettino di più il colore dell'ametista questo qui l'ho dovuto riposizionare perché era appoggiato infatti dopo mi sa che gli do un'altra piccola risistemata con un po' di colla acrilica però questo secondo me è veramente stupendo ha un colore che è pazzesco adesso si vede sempre poco però è veramente un colore pazzesco e è un cristallo veramente molto grande quindi sicuramente questi saranno quelli che metterò in collezione ed eccoci qui ragazzone alla conclusione di questo video facendovi vedere come ho finito di sistemare tutti quei quarzi è stato veramente lunghissimo un procedimento veramente veramente molto lungo però ne è valsa un sacco da pena e sono molto soddisfatto quindi ragazzoli per oggi è tutto io vi saluto questo è Kair Mineral qui si parla sempre soltanto di minerali ci vediamo alla prossima ragazzoli a un prossimo video ciao ciao